Benvenuti a Sprocco e Scalpellina, una coppia di bellezza! Il progetto che ci aiuterà a conoscere le ragazze partecipanti a Miss Carnevale Pietrasantino 2015. Oggi Sprocco fa visita alla Miss della Contrada Branca Agliana. Nome? Giada. Cognome? Picchi. Età? 19 anni. Professione? Studentessa. Segni particolari? Nessuno. È la prima volta che partecipi ad un concorso di bellezza? No, ho già fatto altre sfilate in precedenza. E che cosa ti aspetti? Di divertirmi e passare una bella serata con tutte le altre ragazze. E adesso parlaci dei tuoi interessi. Allora, fin da piccolina ho praticato ginnastica artistica per molti anni. Poi, con l'andare del tempo, ho deciso di fare l'addestramento militare. È da pochi mesi che lo pratico, però me ne sono subito innamorata. Praticamente c'era un ex mariz che ci insegnava tutte le pratiche dell'addestramento. Ogni seduta è composta da una parte iniziale di corsa, seguita da percorsi con esercizi di diverse difficoltà. Diciamo che è particolarmente impegnativo. Riposo, cibo, aria fresca ed esercizio fisico sono i quattro elementi della salute. E la salute, insieme al tempo, sono le due cose fondamentali. Il segreto è approfittare nel miglior modo della seconda quando c'è ancora la prima. Per la contrada brancagliana... Già da picchi! Già da picchi!